Buongiorno e bentornati ad una nuova edizione di Quotidiano TV di oggi 19 gennaio. Iniziamo subito con le notizie. Una relazione finita dopo quattro anni. Lui non aveva smesso di cercarla. L'ultimo messaggio è stato scritto via Facebook intorno alle 19 di venerdì 16 gennaio, ma dall'altra parte non era arrivata alcuna risposta. Fino a sabato mattina 17 gennaio, quando la donna scopre il corpo dell'ex compagno nella sua auto con un pugnale piantato nel petto. Inutile la corsa verso il Fatebene Fratelli di Milano, l'uomo è morto lungo il tragitto. Eli soccorso, tre ambulanze e vigili del fuoco per estrarre tre feriti dalle lamiere. Incidente domenica 18 gennaio nel pomeriggio sulla statale Milano Bergamo nel comune di Cassina dei Pecchi nel Milanese. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente che i carabinieri di Cassano d'Adda stanno ricostruendo. Dai primi rilievi pare che le due auto coinvolte si sono scontrate frontalmente per motivi ancora da accertare. McDonald's, locale simbolo, tempio della violenza, dello sfruttamento, della deforestazione e della fame del mondo. Viene definito così la catena alimentare da un gruppo di animalisti che domenica 18 gennaio si sono presentati davanti al McDonald's di Piazza Duomo a Milano e in un'altra sede poco distante, con magliette colorate sporche di finto sangue e cartelli contro il consumo di carne. Un blitz di pochi minuti ma che inciderà alla settimana internazionale dell'abolizione della carne, fissata dal 24 al 31 gennaio. Conferenza stampa a Milano sul sistema socio-sanitario in Lombardia. Credo che sul fonte risorse, l'anno scorso abbiamo messo 25 milioni per la maggiore apertura degli ambulatori. Gli ambulatori serali hanno dato un esito straordinario. Da settembre ad oggi 100 mila richieste in più. Sono aumentate le tacche in Lombardia, sono aumentate le risonanze magnetiche di quasi il 4%, che non è poca cosa. Abbiamo messo 25 milioni a disposizione l'anno scorso, li rimetteremo in pista quest'anno. In più per l'emergenza dei pronto soccorsi abbiamo messo a disposizione 2 milioni per la città metropolitana, dove si concentra il maggior numero di necessità. Dopo la partita tra Cremonese e Mantova, Maxi Rissa, dove diverse persone si sono affrontate in strada a colpi di bastone e a sprangate. In via Mantova a Cremona, un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito, dopo essere stato colpito da una sprangata e un'altra persona ha riportato lesioni meno gravi. Alla base dell'esplosione di violenza, questa volta il calcio non c'entra nulla, ma vi sono tensioni tra Centro Sociale Dordoni e Casa Pound. Sono state identificate 50 persone e la strada è stata chiusa e presidiata dalle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, vigili di Igos, che erano presenti in forze per garantire la sicurezza nel deflusso dallo stadio. Il club Forza Silvio Crema 1 non si ferma, con due banchetti sabato 17 e domenica 18 gennaio in via Tensini, in piazza Duomo a Crema. Ha portato avanti la campagna di raccolta firme contro la realizzazione di un luogo di culto islamico. A fine mese saranno pubblici i primi risultati, con moduli che ospitano 50.000 firme. L'amministrazione comunale di Crema però non vuole fare il referendum e proseguiranno comunque con la realizzazione di un'opera che ha un forte impatto per tutto il territorio. Ma l'iniziativa non si ferma e porterà la raccolta firme nei comuni del cremasco. Ora aumenti e quindi è a rischio il latte italiano. È allarme per i produttori di latte. In Lombardia è di circa 150 milioni di euro il danno agli allevamenti provocato dal taglio di oltre il 19% sul prezzo al litro, sceso dai 44,5 centesimi dell'ultimo accordo scaduto a giugno 2014 ai circa 36 attuali. E non mi pare, spiega Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Lombardia, che il prezzo al dettaglio del latte fresco si è sceso sotto l'euro, seguendo il taglio del 19% che invece gli allevatori si sono visti imporre dalle industrie. Anzi, al netto di qualche offerta promozionale, le famiglie stanno pagando almeno 1,20 euro al litro. Fra il 2003 e il 2013 il numero degli allevamenti lombardi è diminuito di oltre il 30%. Il settore conta 18 mila addetti e munge oltre 4,5 milioni di tonnellate all'anno, pari al 40% dell'intera produzione italiana. Le stalle cremonesi garantiscono da sole ben oltre il milione di tonnellate di latte munto all'anno, vale a dire il 10% del latte prodotto in Italia. Questo significa che gli allevatori cremonesi, a causa dei prezzi inaccettabili attualmente pagati, subiscono un danno stimato di quasi 38 milioni di euro. Il tutto in un paese come l'Italia, dove il 65% della popolazione consuma abitualmente latticini e formaggi. Fino all'anno scorso l'ora di religione cattolica in classe era prevista nel programma. Gli alunni, come previsto per legge, potevano scegliere se frequentare le lezioni o meno. Con il nuovo ciclo di studi, quello in corso, il nuovo preside ha deciso di cambiare tutto. L'ora di religione cattolica è stata letteralmente cancellata, si studia etica. È una novità che ha sorpreso alcuni genitori, eppure la diocesi quanto accaduto nella scuola svizzera di Bergamo, in via Bossi 44, nel quartiere di Monte Rosso. Si tratta dell'unica scuola plurilingue di tutta la Bergamasca, comprende classi medie, elementari e dell'infanzia, dove oltre la metà degli iscritti sono italiani e l'origine dell'altra metà si distribuisce su diversi paesi dell'Unione Europea, soprattutto Germania e Svizzera. Si traduce già in numeri al comando di polizia locale di Via Coghetti il lavoro straordinario delle pattuglie. Circa 500 le multe con un ricavato per i comuni di Bergamo che potrebbe aggirarsi attorno ai 20.000 euro. Un risultato raggiunto senza nemmeno il massimo dello sforzo, in termini di orari straordinari dei vigili, richiesto dal vice commissario del comparto Viabilità. La crisi economica prosegue, vediamo il servizio. Nel mondo occidentale è la celebre classe media a pagare il conto più salato della crisi economica. Sta velecemente contraendosi la middle class che ha fatto le fortune delle nostre economie nel corso del dopoguerra e sta ora arrancando e perdendo peso economico e conseguente potere d'acquisto. In crisi con lei stanno andando le strutture che ne avevano segnato l'ascesa, i centri commerciali. In Italia, come negli USA, i grandi mole sono in difficoltà. Negli Stati Uniti, che la crisi l'hanno da tempo sorpassata, si registra un'impennata di chiusure dei centri commerciali. Gli stessi patiscono sofferenze pur in Italia. Se la parte alimentare comunque resiste, seppur con molta fatica, quella degli elettromestici vestiti, immobili e in crisi. Il fatto che il fenomeno si è steso un po' ovunque segnala appunto come la crisi abbia divaricato quella forbice sociale che la seconda parte del Novecento aveva progressivamente chiuso. Aumentano i poveri e diminuiscono i benestanti. Sfondano il finestrino dell'auto e rubano le cure oncologiche di una paziente. Sembra incredibile quello che è accaduto a Mediglia, domenica 18 gennaio, ad una donna di 58 anni, originaria di Sordio, che con il marito era andata a fare shopping e poi a ritorno in macchina la brutta sorpresa. Ubriaco alla guida sbanda e invade la corsia opposta causando un frontale. L'incidente è avvenuto sabato 17 gennaio, poco prima delle 19 lungo la via Emilia a San Rocco al Porto, ad una cinquantina di metri dalla curva della morte. Un 39enne di rotto freno diretto verso Piacenza ha perso il controllo dell'auto, finendo addosso ad una panda sulla quale viaggiava un 55enne di Fombio che si stava dirigendo verso casa. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine. Trattiamo di un problema che non si arresta, le truffe online. Non si arresta la crescita dei reati online che confermano in cima alla classifica la preoccupante diffusione di carte di credito clonate. Un problema che attira da sempre l'attenzione dalla polizia postale e dalle autorità competenti, attivando studi e ricerche per trovare la soluzione più adatta a contrastare le tecniche sempre più raffinate e complesse ideate dai truffatori. Per i cittadini sarà quindi importante, nel momento in cui si pensa di richiederne una, mettere le carte di credito proposte dai vari istituti a confronto, cercando la soluzione più conveniente e soprattutto più sicura. Il fenomeno delle frode informatiche colpisce anche le aziende pubbliche e private e le istituzioni, con la violazione del web server e l'elecita sostituzione di una o più pagine del sito. A questi poi si sommano altri fenomeni, dal cyberbullismo alla pedopornografia fino ai casi più eclatanti di identità rubate. Ricorrenti sono anche i casi di addescamenti online di minori mediante creazione di falsi profili. La continua attività di monitoraggio del web a opere delle autorità ha portato alla creazione di una blacklist in cui sono confluiti oltre 200 siti italiani ed esteri per i quali è stato limitato l'accesso dall'Italia. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Fuori Gioco condotto da Lucio De Vecchi. Grazie per essere stati con noi arrivederci alla prossima edizione. Grazie a tutti.